Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Luigi e questo è YoRobbie. Oggi insieme a voi volevo costruire un avvitatore con materiale esclusivamente di riciclo, quindi andiamo subito a guardare di cosa avremo bisogno per costruire il nostro avvitatore fai da te. Per questo progetto quindi utilizzeremo dei motorini di macchinine telecomandate, io ne ho scelto uno da 12 volt, il trasformatore che lo faccio accendere, della colla a caldo, delle forbici, un avvitatore o dei cacciaviti, una spinottiera di una vecchia cassa acustica, un tubetto di colla ormai vuoto, finito, esaurito e io tempo fa avevo staccato la parte terminale di un vecchio avvitatore che non funzionava più e per questo progetto mi sarà fondamentale. Andiamo quindi subito a guardare come procedere. Bene, quindi una volta recuperato il nostro motorino da 12 volt lo andiamo ad analizzare, quindi attaccandolo alla corrente con il suo trasformatore ci renderemo conto che unendo polo positivo e polo negativo con polo positivo e polo negativo del nostro trasformatore il motorino girerà in un senso, quindi magari in un senso orario. Invertendo i poli il nostro motorino girerà in senso anti-orario. E' proprio per questo che utilizzerò la mia spinottiera di cassa per far sì che attaccando polo negativo e polo positivo il mio avvitatore, il mio trapanino avviterà, quindi farà un giro in senso orario. Invertendo i poli, quindi mettendo il polo negativo al più del rosso e il polo positivo al meno del nero, il mio avvitatore sviterà e quindi potrò estrarlo o magari appunto fare quei piccoli lavoretti per svitare le viti piuttosto che avvitare. Quindi andiamo subito a prendere il nostro vecchio tubetto di colla, lo apriamo, lo puliamo e lo laviamo e andiamo a vedere se il nostro motorino ci sta all'interno. Quindi al di sotto andiamo a tagliare il fondo del nostro tubetto per avere semplicemente un cilindro di plastica. Bene, quindi preparato il nostro cilindretto di plastica che conterrà il motorino e ad un'estremità la spinottiera della nostra cassa che andrà a chiudere il cilindretto, andiamo a montare il nostro motorino sulla punta del trapano. In questo caso io ho smontato tempo fa questo vecchio avvitatore che ormai non funzionava più perché si era esaurita la batteria e mi conservai la punta. Questa punta funziona così. Abbiamo quindi delle rotelline all'interno e io quando ho estrapolato questa punta, appunto dall'avvitatore, ho estrapolato anche la rondellina che ho montato al termine del motorino. Quindi vado a rimontare il tutto, vado a mettere la rondellina qui, il pezzo nero e rimonterò il mio ingranaggio. Quindi andiamo a rimontare, a riassemblare la punta del nostro avvitatore. Bene, quindi una volta rimontata la mia punta dell'avvitatore al motorino e assicuratemi che il tutto funzioni, vado ad inserire il mio vecchio tubetto di colla all'interno e vado a fermare il tutto con della colla a caldo unendo il tubetto al di sotto della punta dell'avvitatore. Bene, ho incollato quindi il tubetto alla mia punta del trapano dell'avvitatore, otterrò quindi la mia impugnatura bella e comoda. Adesso quindi vado ad unire il polo positivo con il polo positivo e il polo negativo con il polo negativo. fermo il tutto con un po' di nestro isolante e andrò ad attaccare, ad incollare con la colla a caldo la spinottiera al tubetto di colla per renderlo tutto compatto. Bene, quindi fermati i nostri cavi uniti con la nostra spinottiera di cassa otterremo quindi il collegamento effettuato. Vi consiglio di scegliere un tubetto di colla poco più largo del motore in modo che potremo inserire con tranquillità i fili all'interno, quindi avere uno strumento più compatto senza fili che escano all'esterno. Quindi andiamo ad inserire i fili all'interno del bordo tra il motore e il tubetto e andiamo a incollare la spinottiera al di sopra della nostra impugnatura. Fatto tutto questo, quindi a questo punto avremo più o meno questo risultato. Avremo quindi la nostra punta di avvitatore al di sopra del nostro avvitatore, fai da te, la spinottiera che chiuderà il tubetto e io ho messo un po' di nestro isolante attorno per rendere l'impugnatura più salda, quindi avremo questo risultato. Lo potremo anche appoggiare tranquillamente perché la base risulterà larga, quindi una buona base d'appoggio. Adesso non ci resta quindi che collegare il nostro trasformatore e vedere se funziona. Bene, quindi adesso attacchiamo il nostro trasformatore. Io ho già montato la punta al mio avvitatore, mettiamo il polo positivo al polo positivo e il polo negativo al polo negativo e vedremo che il nostro avvitatore partirà. Sistemiamo un attimino i fili e lo andiamo ad inserire. Vediamo che il nostro avvitatore partirà in fase di avvitamento, quindi prendiamo i nostri pezzi di legno e proviamo se funziona. Andiamo quindi a puntare la punta. E voilà, il nostro avvitatore funzionerà. Ovviamente potete inserire anche un pulsante come questo per spendere il trasformatore e adesso lo stacco dalla corrente, inverto i fili e vediamo ovviamente anche se svita. Quindi invertiamo i fili, mettiamo il polo positivo al polo negativo, il polo negativo al polo positivo, rinseriamo la presa di corrente e voilà. Vedremo che il nostro avvitatore si accenderà e sviterà anche la nostra svita. Quindi questo è il mio avvitatore, svitatore, trapanino, completamente fai da te con materiali riciclati. Quindi se il video ti è piaciuto metti un bel like, condividi il video e soprattutto ci vediamo al prossimo progetto. Ciao! Ciao! Grazie.